No, che culo, ha un tatticismo stranissimo e rarissimo, non ho mai visto una roba così E su D per C4 ho vinto tipo, perché lui deve mangiare subito, altrimenti si cambia le donne, mangio di torre e minaccio matto in D1 Quindi non ha il tempo di salvare l'alfiere E su alfiere C4 c'è una mossa pazzesca che è alfiere B4 Wow La donna è inchiodata sul re e sul matto Quindi non può cambiare le donne in questo momento perché è inchiodata E su donna per B4 arriva donna D1 Che culo, mai vista una roba così? Vabbè